Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Xstarter e oggi ragazzi nuovo video su deathmatch bastardi Sui deathmatch davvero corri e pigliare in culo come gli ho soprannominati io Vediamo qui, ci dovrebbe stare una persona, ecco Ok, è mio, ok, è mio Questo da dietro, ovviamente col fucile a pompa, iniziamo subito le bestemmie Allora rica, io ho visto solamente due persone, uno col fucile a pompa e l'altro meno male che non c'è il caschetto Ok, tu sei mio Ma guardalo, mannaggia il porc***a, come l'alga, mannaggia Già iniziamo con le bestemmie, già devo per forza censurare tutto il video, non è, è impossibile, è impossibile Ok, guarda, questo non l'ho visto bene ma forse c'è anche lui, il fucile a pompa Ok, questo è mio, ok, ok, mettiamoci il riparo, mettiamoci il riparo perché qua, se no, la pigliamo in culo Minchiano, per poco non l'ho ammazzato, guarda, 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 lo spoon, proprio lo spoon davanti, davanti Mamma santa, che cazzo è il teletrasporto, fanno, ti spoonano proprio in faccia, guarda, 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 ma che cazzo è Quello là c'è tutta l'armatura, penso che non faccia niente quell'armatura, spero almeno, cazzo, spero che quell'armatura non faccia niente Allora qua, guarda, 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 è spoonato davanti Eh vabbè sì, tutti e due contro di me, io non sapevo neanche chi cazzo va ammazzare, ma non è possibile Oh rega, io ve lo dico subito, eh, ora non l'ho visto se le persone hanno il caschetto, non l'ho notato perlomeno Però rega, se dovete fare una partita con me e mi conoscete, che sono io, e siete amici miei, su PS, su PSN Rega, non usate il caschetto, se no vi elimino l'amicizia d'ora in poi Get rekt! Non ce l'ho con voi, guarda, guarda, guarda questo troglione, ma che cazzo è? È una botta di lag che tiene una botta di lag che continua, continua, cazzo Il che non è una cosa molto positiva Guarda quell'altro, c'ha l'altro di fronte e va a ammazzare a me, ma dai, ma che cazzo di coglione Ma su via Guarda come cazzo lag, gli ho sparato 30 colpi in testa e non muore Ovviamente si chiama salva, perché si salva, cazzo Mannaggia il... Da mannaggia Lì dobbiamo stare attenti Perché ora si fa così Eh sì, giustamente, da dietro, da dietro che si piglia in culo, si la piglia in culo in questo deathmatch Sasha Gray sarebbe molto contenta quando gioca a sto deathmatch Dai, che non me lo mira, dai, ma che cazzo di personaggio di merda, oh Che personaggio anticappato che tengo E sono passati solamente 4 minuti da quando ho iniziato sto deathmatch Ma che cazzo è? Che cazzo è, ma nonna E dai, cazzo, l'ho ammazzato Ora dobbiamo stare attenti dietro Perché sicuramente c'è qualche stronzetto Che ce la vuole mettere in culo, proprio in culo ce la vuole mettere, capito? Cioè, ci ha sparato sul culo Madonna, rega, madonna Io, io provo a cambiare fucile perché sono qua Ma manco un cazzo Non risolve un cazzo sto fucile Ci sono rimasti solamente 600 munizioni Dobbiamo stare attenti Dobbiamo stare attenti perché por... Perché se comincio a giocare con quello stronzo di persona... Madonna Uno non mi rotola Secondo poi lagga come le bestie Oh, ma questo qua è da buttare fuori questo Questo qua è da... Guarda questo con lanciarazzi, madonna L'head più suddice di questo non esiste Madonna ragazzi Ma più bastardo no, eh? Oh Oh, ma per... Ma dico io che gioco di merda è questo? Ma dico... Ci sono io, che cazzo fai a spuonare lì? Ma che cazzo? Ma che... Bastardata che è questa, oh Guarda, 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 guarda Guarda, guarda 30 colpi in testa, non muore Poi qui è pieno di fiamme Ma che cazzo è? Dai, ma vaffanculo Guarda E che cazzo? Mo devo stare attento di qua perché... Giù, hai visto? Guarda Madonna ragazzi Madonna Mannaggia Mannaggia il dio Fottosamente Bastardo Uno è uscito Ma hai spuonato proprio Dove sono spuonato io? Due secondi fa Cioè Ma che cazzo di gioco è questo? Ma vaffanculo Muori la vendetta Minchia Mancano ancora 7 minuti circa Non ci credo Non ci credo Che non faccia neanche il tempo di girare l'angolo Cazzo Non c'è neanche il tempo di girare l'angolo Porco due Rega mi sto incazzando di blu Di sta partita perché Madonna Una partita più stronza di questa Guarda, guarda Madonna Non l'ho mai fatto Una partita più stronza di questa Guarda Madonna Ma c'ha le bende davanti agli occhi C'ha i paraocchi Paravista Che cazzo tiene? Non mi vede Ma proprio si bisogna essere proprio Capucino News Ora Ora dobbiamo fare le citazioni Perché così Riusciamo ad ammazzare le persone Ma è Dio buono È sempre lui Quello che Che non riesca ad ammazzare Quando lo colpisca in testa Dio buono Ma è sempre Quello No c'è Salva Che mi ha ammazzato da dietro Madonna Ma non puoi sparare i colpi A salve Sta facendo meno schifo del solito E intanto Mi ruba la kill Sono aumentato di rango Quindi sti cazzi Sti cazzi 5 minuti ancora rega 5 minuti ancora E so finire la bestemmia Perché rega Questa è stata la partita Più bastarda e stronza Allo stesso tempo Guarda C'è Bri Bri Ma battela Piliando il culo Free free Madonna Ce l'ho di fronte Ce l'ho di fronte Ma Ma è col fucile a pompa Non ho capito Ma uso pure il fucile a pompa Guarda Mi dispacco il culo Mi dispacco Dio buono Ma che cazzo è L'ho sparato a due colpi Di fucile a pompa Di giusta regola Una persona dovrebbe morire Non dico all'istante Ma fa proprio schifo Sto fucile a pompa Fa proprio schifo Guarda Ciao il fucile a pompa Madonna Io ti elimino l'amicizia Bri Bri Se sono tuo amico Guarda Anzi Appena il Che fa finire Sta cazzo di partita Perché tu Sei un bastardo Sei un pezzo Di merda Guardalo 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 Fiero Lico Sto fucile a pompa Madonna Madonna Eh porco Vabbè chi se ne frega Usiamo il lanciarazzi Tattico Non c'ho neanche Lanciarazzi Non male C'ho quello A ricerca Ma che schifo E va a fanculo L'ho ucciso almeno Sì meno male L'ho ucciso E che cazzo Tanto ormai Tanto ormai Tutti quanti Barano Perché non posso Io Barare E che cazzo Salva Fanculo E che cazzo Arrivato terzo Rega Ma che schifo Di deathmatch Madonna E' il deathmatch Più bastardo In assoluto Che ho mai fatto Ebbene ragazzi Il video si conclude qui Io spero che il video Vi sia piaciuto Commentate qui sotto Fatemi sapere Che cosa Ne pensate di questo deathmatch Per favore Datemi il vostro supporto Perché non ce la faccio più Fatemi sapere Se devo continuare Questa serie Altrimenti Rega Se posso farne a meno Vi giuro Ne faccio a meno Di continuare Questa serie Perché mi fa Incazzare di brutto E poi se mi fa Incazzare di brutto Sto tutta la giornata Madonna Incazzato Incazzato nero Appunto Fatemi sapere Datemi il vostro supporto Per continuare questa serie Perché rega Non ce la faccio più Io bestemmio Come le merde In questi In questi tipi di video E poi devo pure Bippare E devo pure Editare Nelle Nelle bestemmie Che faccio Ad esempio P***a Questa l'ho bippata Spero almeno Iscrivetevi Se non siete ancora iscritti Passate per la mia pagina Facebook Link In descrizione Il mio profilo Facebook Link In descrizione Gruppo Facebook Link In descrizione E indovinate che cosa c'è Il link In descrizione Tutto Tutto Anche il link Della mia Q Quindi Passateci Spero che vi siete divertiti Vi ho strappato qualche risata Se volete far divertire Anche i vostri amici Condividetelo su Facebook E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video E lasciate un like E arriviamo magari a 400 like Per continuare questa serie E ragazzi Ciao ciao Ciao